Immaginiamo di avere la necessità di attivare un observable o un altro sulla base di una condizione ad esempio all'avvio dell'applicazione, di un'applicazione Angular, all'avvio di una route specifica quindi una sezione specifica o sulla base di una condizione per esempio che può essere il click di un utente l'inserimento di un determinato valore in un campo e così via. Tuttavia abbiamo la necessità quindi di attivare un tipo di observable, in questo caso un HTTP client oppure di generare un intervallo, attivare una socket o effettuare qualunque tipo di operazione per esempio in un caso potremmo avere un behavior subject, in un altro caso un reply subject e vogliamo quindi che ci sia una condizione. Per simulare una condizione in maniera molto semplice useremo location e verificheremo se il current path è sostanzialmente la route quindi in questo caso siamo in route perché qui abbiamo invece un url che rappresenta la route di questo esempio e poi simuleremo eventualmente l'altro. Quello che potremmo fare è spostare chiaramente i nostri observable qui all'interno potrebbero essere anche delle costanti, in questo caso piuttosto che avere un let comunque in questo caso prendiamo il valore e visualizziamo il suo contenuto. Stessa cosa faremo, se ce la faccio impaginare decentemente, faremo per la seconda. Quindi essendo effettivamente in route vediamo l'elenco dei post, se fossimo in un altro url oppure siamo in route e dobbiamo attivare questo blocco qui di codice vedremo invece l'intervallo. Quindi torniamo all'url di default. Ok, allora, quindi poco male ma nel senso funziona ma il nostro codice si sta un po' diciamo rendendo poco leggibile e in più dobbiamo avere qui una ridondanza di codice. Immaginiamo di voler effettuare le stesse operazioni in un caso o nell'altro quindi qua dovremmo replicare due volte il codice oppure chiamare eventualmente una funzione che andiamo a generare esterna e la dovremmo chiamare per esempio sia in questo punto che in quest'altro. Ok, ci può andar bene ma stiamo usando un approccio non proprio diciamo nella filosofia di Rx e non proprio idiomatico. in più avendo un if siamo soggetti a dei side effects come al solito come spiego tante volte nei miei video non utilizziamo un approccio puro quindi delle funzioni pure specifiche del paradigma funzionale che chiaramente è la base anche di RxJS anche se è un paradigma funzionale reattivo però diciamo che andiamo a sporcare un po' il codice e in particolar modo quando il contesto non è così banale e semplice potremmo non avere la necessità o comunque potrebbe essere controproducente potremmo creare più variabili mettiamo caso che ne abbiamo da gestire 4-5 di situazioni diverse con una switch invece che un if. Bene, in questo caso ci viene in aiuto un operatore di creazione di RxJS chiamato defer quindi la possibilità di creare un observable in modo lazy diciamo così quindi cosa possiamo fare? Possiamo semplicemente andare adesso ad importare da RxJS appunto l'operatore defer e andarlo ad utilizzare direttamente nel nostro codice quindi defer e cosa ci richiede come argomento? Una factory, una funzione a questo punto defer sarà il nostro nuovo observable che chiameremo OBS Bene, qui nel defer potremo a questo punto andare a decidere sulla base di una condizione e prendo la stessa condizione che avevamo prima con un banale ternario se andare a restituire un tipo di observable, l'http client oppure l'intervallo possiamo togliere tutto questo codice possiamo adesso sottoscrivere OBS direttamente e sulla base della condizione vedrete che adesso abbiamo i post o nel caso contrario avremo l'intervallo il tutto con un codice comunque più conciso leggibile potremmo anche evitare la proprietà qui e andare a sottoscrivere direttamente ovviamente e vediamo che il risultato è lo stesso vediamo due timer semplicemente perché stack blitz non resette il timer anche se ho rifresciato la pagina quindi adesso è più corretto lo vediamo ogni secondo e... bene direi che è tutto quindi questa tecnica, ripeto, in un caso così potrebbe essere anche evitata ma ci sono situazioni in cui ci sono anche magari di mezzo iterazioni dell'utente che sulla base appunto di una determinata situazione scenario vada appunto ad utilizzare un tipo di observable o un altro indipendentemente da quali siano poi le source e i producer di questi observable che sia un form, reactive form o che sia appunto una socket o delle subject differente